Ci stiamo avviando verso gli ultimi giorni del 2022, il 2023 sta arrivando, noi siamo andati a domandare ai cittadini che abbiamo incontrato per il centro storico dove passeranno le loro ultime ore del 2022 e le prime ore del 2023. Abbiamo la fortuna con un gruppo di amici di avere un piccolo ristorantino di amici che ce lo riserva per noi, quindi lo passeremo con un gruppo di amici. Lenticchia e cotechino oppure qualcos'altro? Pesce, solo pesce. E passerete la mezzanotte lì e poi farete altro oppure finirete la serata? Finiremo la serata lì perché ovviamente ci sono bambini anche piccoli e quindi finiamo la serata lì. Capodanno come lo passerà? A Capodanno non è niente, a casa perché è passata, almeno personalmente è passata l'epoca di andare fuori, sono diversi anni che lo passiamo a casa e quindi anche andare fuori. È freddo, niente. Siamo molto tradizionalisti quindi restiamo a casa. Poi apriamo la finestra e stiamo a vedere i fuochi che fanno gli altri. Ma noi abbiamo un bimbo molto piccolo appena arrivato quindi sicuramente a casa e in famiglia. Quindi un brindice a mezzanotte poi si vedrà. E c'è nanna, ecco. E ho visto una cosa che a me piacerebbe molto fare. C'è uno spettacolo teatrale che viene fatto appunto la notte, era il Teatro d'Use di Capodanno dove lo spettacolo viene interrotto e poi si brinda insieme a tutti gli spettatori, gli attori. È una cosa che probabilmente cercherò di vedere se qua in zona si potrà fare. Per Capodanno lenticchie e cotechino oppure avete qualche altra tradizione? Io non l'ho mai mangiato la prima volta, l'ho mangiato l'anno scorso, l'è saggio ogni anno, però l'ultima volta mi sembra che sono riuscito a gustarlo. Ma sono anni che ci provo. Alternativa a lenticchie e cotechino? A lenticchie così è una bella pizza di scarole che fanno a Napoli. Una pizza che fanno al forno, altro che lenticchie e cotechino. Grazie.